Il 27 luglio del 2009, creando il popolo della schiavitù, fondai una metafora. Come ho asserito nel mio discorso di dimissione il 29 maggio, abbiamo tutti una grande occasione, quella di poter immaginare nuove metafore nella grande metafora della rete, quella di poter e scrivere i linguaggi che ci vengono inoculati e contrastare il processo neolinguistico di asservimento della memoria al potere. Riappropriamoci sul nostro principio passato. Il campo di battaglia nel totale asservimento della sfera pubblica ai mass media, oggi più che mai, è quello del linguaggio, quello delle metafore congettuali. Non ciò, ci ha spiegato come, quando i mass media restringano la gamma e il tipo di metafore tra i quali veniamo quotidianamente esposti. Non è possibile, per l'evidente disparità di forze, affrontare il nemico al campo a reto. Non ci rimane quindi che darci alla macchia mediale e da lì tentare azioni di sabotaggio mediale e concettuali. Tazioni, incursioni mirate alla conquista e creazione di territori mentali, delimitati dal dubbio, come ci ha insegnato Akimbe. Per noi di colori non esistono, sono luce, la luce che disegna il dubbio, l'unica certezza che sappiamo esistere, dal manifesto del popolo della schiavitù. L'obiettivo ora è arrommare la nostra creatività, per costruire un numero di web per i piedi fortemente consapevole e motivato. Si invitano tutti gli appartenenti al popolo della schiavitù, che non condividano in pieno questi concetti ad abbandonare immediatamente il gruppo di Facebook. A seguito delle mie dimissioni, anche l'intero primo governo del popolo della schiavitù è interamente dimissionario. Saranno tottanto azzerati tutti gli attuali amicari, ministri, sovrasegretari e tribuni della CLEBA, in vista della necessaria riorganizzazione e ottimizzazione dell'organizzazione. Si riparte da questo comunicato dalla macchia media.